mi piaceva cantare di conseguenza appena ho potuto sono andato un po' a scuola e poi ho cominciato a fare i concorsi l'altra metà diceva sono belle le sue canzoni le canta bene ma quest'orchestra è nata per il liceo lui toglie dello spazio ai ballerini quindi la mia orchestra quando è nata è nata più impostata sulle canzoni su me come personaggio per il genere che facevo ho sempre cantato queste canzoni quindi non sono un imitatore sono un fedele esecutore degli originali grazie a dio mi è stato bene così sono arrivato fin qui per questa mia qualità però fin che il signore non mi porterà con sé no